secondo posto per giuseppe filpi sui 60 ostacoli ai campionati italiani juniors promesse l'atleta cilentano ai campionati indoor di ancona appunto realizza il secondo posto sui 60 ostacoli promesse un vero e proprio finale trilling con il podio deciso grazie al photo finish con ben tre atleti con il crono fermato a 8 e 0 1 questione di millesimi quindi che hanno separato giuseppe filpi dal successo andato a federico piazzalunga dell'atletica bergamo 1959 orio center un finale così è per cuori forti commenta il tecnico angelo palmieri le emozioni sono state e lo sono ancora contrastanti straordinariamente felici per il secondo posto nazionale rammaricati per essere andati così vicini alla vittoria soprattutto in virtù di una partenza dai blocchi non eccezionale sempre ad ancona matteo romano nel triplo chiude i suoi campionati italiani al quinto posto con la misura di 14 e 94 per matteo una prestazione fortemente condizionata da un fastidio alla caviglia che come dichiarato dal tecnico alessandro canneva non gli ha permesso di dare il massimo non nascondiamo un po di amaro in bocca per non essere riusciti a completare al massimo delle nostre possibilità la caviglia faceva male rendendo la gara molto difficile amarezza che si trasforma in soddisfazione in virtù dei prossimi appuntamenti siamo contenti dell'esperienza queste manifestazioni ti fanno crescere adesso dobbiamo recuperare dall'infortunio e concentrarci subito sulle gare e outdoor conclude canneva